La campagna presentata oggi nasce da un messaggio del Consiglio dell'Unione Europea. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo che vogliamo raggiungere è fare in modo che non ci sia più un utilizzo del web per campagne di odio, di istigazione all'odio, di campagne contro il diverso. Quindi un uso corretto del web soprattutto da parte dei ragazzi e quindi un messaggio di rispetto nei confronti di tutti. I ragazzi giovani non sono solo i destinatari di questa campagna ma sono anche i protagonisti attivi? Sì, noi li abbiamo coinvolti in particolare attraverso le scuole. Le scuole secondarie e superiori in particolare perché abbiamo chiesto anche a loro di provare e immaginare come possa essere veicolato questo messaggio. Le tre scuole che abbiamo una commissione ha premiato, infatti si sono esercitate in un corto vetraggio e noi come dipartimento ci sarà la cerimonia di premiazione ma ci siamo impegnati a sostenerlo e quindi a viralizzarlo con i nostri canali.